Ciao a tutte ragazze, eccomi con un video di creazioni, finalmente. Allora, vi mostro quello che ho appena concluso. L'ultimo nato è questo cabochon che ho incastonato. Ve l'avevo già mostrato nella review degli acquisti che ho fatto nel negozio di mannate, creando sull'idea della fantasia. E qui apro una piccola parentesi. Miciola, se sei in ascolto ricordati che devi venire appena sali su Avarese. E niente, quindi l'ho incastonato utilizzando i colori che fanno parte del cabochon, quindi il verde e l'oro. Ho fatto un sopra diverso da un sotto, inizialmente sotto volevo fare una cascata di perle o qualcosa del genere, ma poi alla fine ho deciso di fare questo che è un po' diverso anche dagli ultimi che avevo appena realizzato. E niente, ho fatto un giro, quello verso l'interno del cabochon, la parte sotto, ecco, con i swarovski da 3 mm, la parte e mezzo alternando una drops da 3 oro e uno swarovski da 3, una drops da 3. e poi invece il giro, proprio quello che sta all'interno del cabochon, la parte sopra, ho fatto soltanto un giro di picot. La parte sotto invece ho sempre fatto il primo giro con le picot, il secondo con una drops, uno swarovski e una drops, e l'ultimo giro ho preso uno swarovski da 4 mm e ho cambiato anche vari colori, alternando vari colori di due colori di swarovski, realizzando una picot, diciamo, un po' insolita, perché ho messo in mezzo alle due delica la drops da 3 mm. Non ho ancora realizzato nessuna fascetta, perché non so come fare, anzi, magari chiedo aiuto a voi, datemi consiglio, perché il mio problema, come dicevo anche alcuni di voi, è incastonare poi i cabochon che faccio, perché così mi piacciono. Poi quando appena li metto con delle catene o dei cordoncini o non so che cosa, non mi convincono, non mi convincono. Per cui magari chiedo a voi, insomma, io stavo pensando di realizzare due, oddio mio, non mi vengono neanche le parole, due cerchi con le delica, ma poi comunque non saprei come andare avanti, datemi un consiglio, vi prego. E niente, passiamo a un lavoro concluso, ed è questo. Sempre il cabochon acquistato a mannate, incastonato sempre con gli stessi con i colori dello swarovski, e il bianco e il nero, anche qui velocemente vi dico come l'ho realizzato, oggi non ce la posso fare, veramente. Swarovski da 3, un giro di Swarovski da 4, ho fatto un giro solo nella parte sopra e solo nella parte sotto con le drops da bianche, e poi ho realizzato invece nell'ultima parte un giro di picot, Swarovski da 3, queste drops qua che avevo preso, non mi ricordo più la misura, da obi perline, e un altro Swarovski da 3, e così via. Ho realizzato poi una fascetta e l'ho incastonato, l'ho incastonato e l'ho inserito dentro a quelle retine che vi ho mostrato, che avevo acquistato appunto a mannate, con dentro microperle color bianco, per richiamare il tutto il bianco e il nero. L'idea che mi è venuta è mettere magari la prossima volta, magari nella chiudura, qui nella mollettina, un filo, un cavetto, e con l'ago far passare all'interno e all'esterno di tutta la retina il filo, mettendoci qua e là degli Swarovski. Quindi, insomma, questa è l'idea, poi ve la mostrerò, ecco, se farò velocemente. Vi faccio vedere altre retine, bianca con microperle bianche, c'è microperle oro, centro la retina oro, e niente, queste sono quelle che per ora ho realizzato. Poi ho fatto sempre col periote questa stellina, Questa stellina che ho preso lo schema dal Fashion Gems, aspettate che vi mostro, ecco, Fashion Gems, il mese, papapà, è questo qua, maggio-giugno 2011, e ho preso appunto qua lo schema, e niente, questa stellina qui l'ho realizzata, ed è molto molto carina, rivoli da 14 incastonato e i giri di Swarovski da 3, da 4, e poi lo schema prevedeva per il ciondolo l'ultimo giro con Swarovski da 6 mm. Io però ho deciso di non farlo, ma di utilizzare Swarovski da 4, perché rimangono un po' più, diciamo, un po' più rigidi, piuttosto che quello da 6, che essendo talmente grandi, tendono un po' a rovinare la stellina, a parer mio, ovviamente. E niente, poi ho messo semplicemente un nastino d'organza bianco. Ultimissima cosa veloce, vi mostro anche questa collana, realizzata con delle perle dure, con i mezzi cristalli, molto carina e a me poi mi piace tutto questo rumore, tutto quello che suona, che fa qualche rumore particolare, insomma addosso secondo me è veramente bella. Niente, questi qui sono appunto i miei lavori, spero di fare un video che vorrei realizzare un tutorial prima di partire, però visto che parto giovedì per il viaggio di nozze, se non mi sentite, niente, realizzerò il tutto al mio rientro. Io per ora vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ragazze!